Le immagini che vi proponiamo relative alle operazioni della Guardia Costiera nell'ambito del dispositivo di protezione civile attivato a seguito dell'ondata di maltempo che ha colpito l'isola di Istia per monitorare dall'alto i luoghi e gli ambiti marini interessati dalla frana, mettono in evidenza gli effetti materiali da questa prodotti sul territorio e permettono al contempo, con un colpo d'occhio, di percepire la quantità e l'ubicazione delle abitazioni sull'isola con una popolazione di circa 60.000 abitanti distribuiti su una superficie di 46 km2. L'isola è suddivisa in sei comuni, Ischia, Casa Micciola Terme, Lacquameno, Forio, Serrara, Fontana, Barano. Nel video è quindi sintetizzata l'attività di monitoraggio dall'alto eseguito da un elicottero Nemo e da un aereo Manta della Guardia Costiera, oltre che dalla nave Gregoretti, da subito operativa nell'area per le ricerche in mare, anche con imbarcazioni speciali, accanto alle motovedette e al personale della Guardia Costiera di Ischia e del secondo rufo subacqueo in distanza Napoli. Grazie! 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti